C'era una volta tecniche favolose di narrazione orale, è un titolo che mi è venuto in mente perché c'era una volta, naturalmente è l'inizio di ogni racconto, di ogni favola e a quel punto, visto che si agganciava all'idea della favola, anche le tecniche mi piaceva sottolineare che fossero favolose. È un po' un gioco di parole ma è anche molto importante sottolineare che nel titolo sta la promessa. Il progetto punta a valorizzare le caratteristiche di ognuno di noi nel raccontare, nel raccontare in pubblico ma anche nel raccontare in privato. Quante volte ci siamo trovati appunto a iniziare un discorso e accorgereci che gli altri si distraggono. Ecco, c'è qualcosa che non va? Sì, c'è qualcosa che non va e noi proveremo insieme a tutti quelli che ci seguiranno a capire che cosa non va e a come fare per valorizzare le proprie caratteristiche personali. Perché poi non ci sarà una situazione nella quale verranno spiegati chissà quali segreti e chissà quali tecniche, ma in realtà ci sarà semplicemente un modo interattivo con molta parte dedicata alla pratica appunto per arrivare a migliorare. Questo è l'obiettivo di questo corso che inizia con una prima lezione come tutti i corsi che noi proponiamo il primo ottobre. Il primo ottobre è una data che ho scelto perché nella mia storia personale evoca il primo giorno di scuola, per cui già mi immagino tutti con il grembiulino e col fiocco. Non sarà così naturalmente, però ci vedremo il primo ottobre alle 21 nella Sala delle Arti, che è la nostra sala corsi e non solo. Ma è molto importante anche che ci si prenoti attraverso la piattaforma di Eventbrite, perché abbiamo deciso di fare tutto in maniera molto scrupolosa e di conseguenza abbiamo bisogno di un minimo, un pizzico anche di burocrazia per strutturare al meglio questa partecipazione a questa prima lezione gratuita. La prima lezione è riservata a non più di 30 persone per un motivo ovviamente legato al Covid e tutto il resto. Il corso invece per motivi didattici lo fissiamo per un massimo di 12 persone. Questo proprio perché vogliamo dare molto spazio all'interattività e molto spazio alle esercitazioni pratiche. Se ci saranno queste 12 persone, massimo minimo 10, a quel punto ogni giovedì ci sarà un appuntamento sempre alla Sala delle Arti, un'ora e mezza, dalle 21 alle 22.30, nelle quali ci sarà una parte dedicata a qualche piccola somministrazione di idee, di consigli, di suggerimenti e poi tanta pratica.